e mettere ordinanze allo scopo di limitare l'uso dell'acqua potabile ed indicare limitazioni nell'uso extradomestico Questo l'invito ai comuni dell'Appennino Cesenate e Forlivese della Multi Utility ERA dopo le settimane di siccità che hanno colpito il territorio romagnolo Sempre ERA ricorda di avere in ogni caso un piano di approvvigionamento per prevenire emergenze idriche che in questo momento però non vengono segnalate Il comunicato della società di servizi Arriva in concomitanza del determinato no del WWF a nuove dighe e invasi artificiali E' quanto afferma il presidente provinciale del WWF Alberto Conti che spiega Le dighe hanno un impatto ambientale ed un costo economico enorme e insostenibile che ricadrebbe sulla collettività Si tratterebbe per Alberto Conti di andare contro il partito delle dighe ribadendo la loro storica opposizione al progetto dell'invaso di Ridracoli voluto dall'allora sindaco di Forlì Giorgio Zanniboni Secondo il presidente di WWF Provincia il sentiero da seguire è quello di investire sui programmi virtuosi che riducano drasticamente i consumi sulla gestione del territorio dall'utilizzo più efficiente dell'acqua piovana alla riduzione delle perdite idriche oltre a una riduzione dei consumi energetici e dei rifiuti pubblici e privati Con questo, a detta degli ambientalisti si otterrebbe un risparmio idrico superiore al quantitativo di acqua che un invaso o una diga potrebbero contenere Grazie a tutti